La pazza agazzanese colpisce ancora. Tre gol e una prestazione a dir poco Corsara bastano e avanzano per far scendere dalle nuvole un nibbiano con le batterie scariche, il quale non potrà più permettersi scivoloni. Là dietro, infatti, Montecchio e Gotico non ne steccano più una e con la stagione della caccia ora ufficialmente nel vivo, Cremona e Sochi dovranno assolutamente tramutarsi in centometristi giamaicani per distanziarsi ulteriormente dalle famediche inseguitrici. I primi minuti di questo derby delle valli sono piuttosto ingessati e balza subito all'occhio come la squadra di Mister Perazzi giochi con qualche tensione in più rispetto agli avversari, a loro volta maggiormente spigliati e appellati sia ad un giro palla a tutto campo. Tuttavia il secondo gradino del podio non è avamposto che si conquista a caso. Passano dieci minuti e ci pensa il binomio Arena-Cremona a sbloccare un inizio difficile. Dalla tre quarti il numero dieci estrae dal cilindro la finezza, servendo in profondità allo scatto di Cinghialino Cremona, capace a sua volta di distrecarsi dalla morsa della marcatura granata defilandosi per poi incrociare col mancino. Roba da altre categorie, roba da nebbiano. Nonostante il vantaggio la squadra ospite fatica però nel trovare quella manovra melliflua su un marchio di fabbrica. Merito dei Granata, i quali vanno ad accorciare su ogni pallone, ripartendo poi in velocità. Sono loro i padroni del gioco, orchestrando bene ma smorzandosi in prossimità dell'area avversaria, dove una difesa con le antenne dritte fa per adesso buona guardia. Ma gli attributi non mancano e la squadra sfrutta la superiorità a centrocampo, garantita dal 3-5-2, per far sudare freddo gli avversari. Alla mezz'ora da un uovo di Pasqua avanzato dal pranzo del 27 salta fuori la sorpresa. Cross di Lombardi, sponda di testa di Delfanti e tapin vincente di Burgazzoli. Azione corale e Gran Gol, il gioco convincente dei padroni di casa permette di ristabilire la parità. La squadra di Agazzano non ha però alcuna intenzione di concedere la reazione agli avversari, giocando il secondo tempo sulla falsa riga del primo. Dopo soli 5 minuti, Burgazzoli crossa in mezzo per la libertà di Delfanti, il quale pone la firma sul controsorpasso. Si mette male per il Lombardi. Lo scatenato Delfanti ci prova ancora con due azioni in rapida successione e c'è bisogno di un providenziale taino per negare il tris all'attaccante di casa. Ma è solo questione di tempo. Al ventunesimo, il migliore in campo Delfanti serve l'inserimento mancino di Moltini, il cui cross raso terra è un cioccolatino per Burgazzoli, che archivia definitivamente la pratica. Ai ragazzi di Perazzi non basta infatti l'assalto a Fuerta Pasce per ribaltare il responso del campo. La scheggia impazzita agazzanese continua così ad alimentare un sogno chiamato playoff. Buttando un occhio ai risultati delle piacentine in promozione, alla Castellana non basta l'assalto finale per piegare il Montecchio, più cinico e anche un po' fortunato nel blindare i tre punti con relativo terzo posto. I rosso-blu accorciano il passivo di due reti con il gol di Zanaboni, poco dopo la mezz'ora del secondo tempo, sfiorando più volte il pari nel finale con il talentuoso Lamberti. Il gotico Garibaldina tiene il passo del Montecchio, asfaltando con un perentorio 6-1 l'ormai retrocesso Soragne. Tripletta dell'Eterno Centofanti, doppietta del Baby Raggi e gol di Pagani, la squadra dei Lusignani vola aspettando l'incontro con la Medesenese. Non va invece oltre il pareggio il Fontana Audax contro una Castelnovese inarrendevole, abile ad aggiudicarsi il secondo tempo dopo una prima frazione di netto predominio bianco-verde. Alla rete in semi rovesciata di Zanolini risponde Molteni con un tiro dalla distanza, peccato per il palo colto da Brugnelli ai 20 minuti dalla fine.